Tu! 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 Ecco fatto, la parola è parola. Il raddoppio al sedicesimo su punizione di Bartromeda 25 metri. La Sampa corcia alle distanze al dodicesimo della ripresa con una splendida azione di Mancini che sa Tancredi con un secco tiro alla sua terra. Ripetiamo, all'Olimpico, Roma 2, Sampdoria 1. Dallo studio centrale a 4 minuti dalla fine un breve riepilogo dai campi della Serie A. Avellino-Torino 0-0, il Milan vince a Genova 2-0, Napoli-Pisa 1-0, Verona-Ascoli 0-1, Roma-Sampdoria 2-1 e la Lazio vince 1-0 al Meazza con l'Inter linea Milano. Siamo! Guarda ma il Colirio che un giorno o l'altro ti do una bottiglietta di amaro qua a tracolla te la do. Hai capito? La devi finire con questi cacca amarini tutto il giorno sulla capa mia. Mettili di destra il tuo padre. No, mio padre ce l'hai capito. Guarda che ti racconto tutte le fregnacce che hai fatto e sono mazzette. E io ci dico che hai telefonato in Puglia in teleselezione e sono bastonate, ne? Va bene, allora io non dico niente così siamo pari, la facciamo finita. Certo che hai preso proprio tutto da tuo padre che è un nostro... Un nostro... un nostro parente, no? Non è mica mio cognato. Sì. Vai a giocare. A circa tre minuti dal termine ecco... Lo vuoi qualche biscotto? Portecci tua. Juventus-Catania 1 a 0. Atalanta-Cesena 1 a 2. Ecco. Catanzaro-Cavese 0 a 0. Lecce-Pescara 2 a 0. Bologna-Treviso 0 a 1 e infine la Salernitana vince a Reggio Calabria 3 a 1. O strecchetti, sto facendo un giro, me lo sono accorto? Attenzione qui... Dunque vediamo che cosa vi manco da me. Fiorendino un di mezzo. Io ci ho messo a inzio. Ma Fiorendino perde in gas 2 a 1, ma non va niente. E poi Juventus-Catania. Porca puttana per dar retta a quel disgraziato di parole ci vado a mettere questa anomala fissa due. Come fa la Juventus a perdere in gas? Vince già 1 a 0, vince. Se mi perde il 12 per colpa di parola. Attenzione, attenzione olimpico. Qui in Firenze dove è stato concesso un calcio di rigore alla Fiorentina per atterramento nettissimo di verdure in piena... Calcio di rigore alla Fiorentina! Calcio di rigore alla Fiorentina! Madonna benedetta della ripalta di Cerignola. Fai segnare il gol ai Viola. C'è un po' di confusione l'arbitro. Ecco, tira fuori il cartellino e in questo momento munisce il capitano di Bianconeri Causio. Guarda, guarda che ti spezzo! Ti spezzo i marischi io ti spezzo! Vai fuori! Via! Non è ancora allo studio a Torino. Il Catania è pareggiato con la Juventus con uno spazio di Cantaruttia. Bene riprendo la linea mentre Antonioni sta per battere il calcio di rigore. Gli animi si sono finalmente placate. Sui spazi c'è silenzio. C'è ancora una protesta. Vediamo di Edigno che sta discutendo animatamente con i guardarini. Ci siamo. Antonioni prende la rincorsa. Tiro! Prespinge il portiere Brini in palo. Antonioni è restissimo. Recupera Rete. Ha segnato a Antonioni. Rete! 12, sto facendo 12. È la Madonna dell'Alto Mare che mi aiuta. Annaggia la misera, se non devo perdendola a Juventus, poteva anche scapparci un 13. Ma non va niente, non va niente lo stesso. Lui c'è gusto, non c'è perdenza. Chi si contende a gol? Io sto golendo. Se ci scappa un 12 buono. Speriamo che non succeda niente in zona Cesarino, se no sono Kezzi Ameri. Ameri, Ameri, c'è Ameri. Ziolino, mi scappa la cocco. Valla qua dentro. Ziolino, Ziolino. Che c'è? Di che sesso sono le tartarughe? Che hai dentro? Non ho afferreto. Di che sesso sono le tartarughe? Ma che ne so, io non c'hanno sesso, sono ricchione, va bene. Ziolino. Un'altra volta. Ho fame. Bello di... Vi, 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 vi. Lascia qua. Vi, 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 vi. Quando manca la fine? Un minuto circa al termine dell'incontro. Tu. È terminata la partita anche all'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2 a 1. Sette. Ci guarda 8. Ci guarda 9. 2 a 2. Riena più. Ho fatto 12. Non può essere, ho fatto 12. Ho fatto 12. 12, non ci credo, 12. Non ci credo nessuno, ho fatto 12. Ho fatto 12, ho fatto 12, no? Oh! 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 Fai il caldo! Chacri! Platini! Fai il caldo! Prende la juventus! No, non hai parto! Non hai parto, è tredici! Eh, eh, tredici! Ho fatto tredici! Più bello, sono più bello! Quando uno è ricco, di metà bello, un'improvvisamente! Sono ricco, c'ho tutto! Posso fare quello che voglio, mi pettino, mi pettino con lo spazzolino, come a pettinessi mi pulisco i denti, faccio vedere io, brutto stronzo! Terrù, va a mangiare il sapù! Io me lo mangio, me ne frega bello! Me lo mangio! Me lo mangio! Buona saputa! Ma è tredici, beh, non può essere, è tredici, è tredici! Sono miliardario, Ti ordino, buongiorno! Comandatore, che vuoi dire? E come, vuoi cinquanta milioni di mangià? Cinque milioni, vuoi cinque milioni di mangià? Grazie, grazie tanto! Arrivederlo, comandatore! Devi morire! Tredici! 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 E dottrici! Tredici! Sempre a tredici viene! Perché io l'ho tredici, lo l'ho fatto io, l'ho fatto io! No! Bella, dono! Ciao, Turin! Mi vado via! Padre Lundani! Che colpo di fuoco! Oh, 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 oh.